La manifestazione multidisciplinare Questa è la loro grande missione, l'Africa infatti è un continente che è considerato soltanto sede di conflitti e di povertà, ma non è solo questo perché è anche sede di una grande eccellenza, c'è in Africa una grande bellezza e questa grande bellezza può permettere un empowerment a tutti i giovani che possono cambiare i problemi di cui ho parlato prima. Milano TV è orgoglioso di essere media partner di questa grande bellezza e noi non vediamo l'ora di andare a scoprire tutta questa grande bellezza. Allora è tutto pronto, ma da FES Bell'Africa sta per iniziare. Allora è tutto pronto. 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 Allora è tutto pronto.